Oggi Stas e Odisseo saranno in questi acquari, cioè ragazzi all'esterno faranno delle sfide per aiutare la loro squadra a vincere e l'acquario della squadra perdita si riferirà d'acqua! Stas, noi siamo la squadra blu, vinceremo! Sì, Dimon, mi fido di te! E noi, Odisseo, siamo la squadra rossa, giusto? Sì, batteremo quelli blu! Amici, sono pronto! Amici, non vedo il problema, vincerò questa sfida, sono un atleta! Oh, amici, fa molto caldo qui! Siete pronti? Sì! Allora, iniziamo! Sì! Nella prima sfida abbiamo corte, piscina e il ghiaccio! I ragazzi dovranno tirare la corte da entrambi la, se chi cadrà nella piscina perderà e l'acquario della squadra perdita si riempirà d'acqua! Così, sì ragazzi! Ragazzi, sono sicuro che vincerà un affario perché è molto più forte e più grande! Sì, è vero, Odisseo, sono molto più forte, guardate come me la caverò, amici! Amici, forse non ho tanta forza, ma ho qualcosa di più importante, il cervello! E vi dico che il cervello è molto più importante dei bicipiti! Forza di Monus e il cervello! Altre, uno, due, tre! Oh, sì, sì, sì! Il cervello, il cervello! Non capisco come mai, sono il più forte! Come? Come è potuto succedere? È stata una truffa, una vera truffa! Oh, ho un cervello d'oro, amici! Cavolo, Lofaro, non ci credo, hai perso! Mi fidavo di te, amico! No, l'acqua è fredda, gelida, non posso, è freddo! Ah! Non ci credo, hai perso! Mi dispiace aver perso, Odisseo, so che è molto freddo adesso! Amici, il nostro acquario ha quattro livelli! Uno, due, tre, quattro! Se uno dei ragazzi avrà l'acqua che arriverà al quarto livello, l'acqua smette di scorrere ed è molto spaventosa e può annegare! Che bello che abbiamo vinto, amici! Spero di continuare a essere orgoglioso di Dimone e che non perda nemmeno una volta! Allora, amici, l'acquario di un stessa è riempita fino al livello numero uno e iniziamo la seconda sfida Battlefield! Dimone, vincerai tu, vero? Non so se riuscirò a vincere! L'affario, non perdere! Non voglio annegare! Non preoccuparti, solo gie l'armi! Io ragazzi vincerò sicuramente questo round! Sono un professionista! Ok, gente, avete tre tentative a testa e chi di voi ne ottiene di più è la squadra che vince! Tre, due, uno! Andiamo! Io vado per primo! Ah, no ragazzi! Ave, stocca a me, lancia io! Ah, ah, perdente! Io sì, io sì, lancio! Sì, sì, solo gie l'armi! Oh, Timon, non sta funzionando per niente ragazzi! Concentrati! Bravo, raffario! Hai già un punto! Ora continua così! Amici, credete in me! Posso farcela! Oh, sì! Amici, guardate, siamo pari adesso! Devo vincere! Siamo pari, io devo vincere! Andiamo, andiamo! Andiamo! Sì, sì, solo gie l'armi! Timon, sei un perdente! Anche a me è rimasto un colpo! Ehi! Sì, 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 perdente! Non ce l'hai fatta, non ce l'hai fatta! No, no, hai perso! Ehi, ha un altro tentativo, Maria! Diglielo! Sì, sì, Stas! Ha un altro tentativo! Non capisco perché raffario si comporti così! Comunque credo che raffario non sappia contare! Comunque, amici, guardate, pareggiamo i conti! Se l'avevo detto che eri un perdente, il raffario vince! Forza, versa l'acqua! Cavolo, amici, lo sapevo! Timon è un loser, non sa giocare a Battlefront! Ragazzi, l'acqua esce già! Come avete capito, l'acqua deve arrivare a questo livello! L'acqua di entrambe la squadra ha raggiunto il primo livello! Come vi sentite? Sarò sincero, l'acqua qui è molto fredda, amici! Ragazzi, la mia acqua sembra già calda! Certo, Disseo, la tua acqua è già calda! Ci hai fatto una pipì dentro, freddente! Di cosa sto parlando, Dimon? Non faccio queste cose, sono un uomo! La terza sfida, amici, è molto estrema! I ragazzi dovranno mangiare degli snack molto acidi e avranno solo un minuto di tempo! Io adoro gli snack acidi, per questo ti batterò, raffario! Sognatelo, ragazzo! 3, 2, 1! Vai! Dai, forza! Dai, Dimon, ame tutto ciò che è acido! Forza, l'affario gigante! Questo è agrodolce e questo è acido! Versiamocelo sopra, così lo copriamo completamente! Oh, mio Dio! No, amici, sono proprio curiosa di vedere chi vince! Vedo che le cose non vanno molto bene! Andiamo! Ti batterò, Dimon, sappilo! Ci restano 5 secondi! Il tempo è sgaduto, sgaduto! È terribile! Credo che, amici, possiate vedere subito il vincitore! Dimon non ha nemmeno aperto quei due pacchi! E Raffario ha lasciato solo pesatura! Quindi, Raffario ha vinto! Grazie! Non ci credo, amici! Erano così acidi! Guardate! Bravo, Raffario! Sapevo che avresti vinto! Ragazzi, vedo che Dimon non sta andando affatto bene! È un loser! Dimon, svegliati! Stas, non preoccuparti, fratello! Oggi non è la mia giornata! Ma sai, nella prossima sfida ci sarà qualcosa per il cervello! E vincerò sicuramente, hai capito? Usa il cervello, amico! Usa il cervello! Forza, dai! La prossima sfida, amici! La prossima sfida, amici, promette di essere molto divertente! Siamo pronti per combattere! I ragazzi sono vestiti da suo mo' e combatteranno! E chi vince? Allora la sua squadra vince! Vincerò io, gente! È solo gie larmi! Raffario, perderai! Chi cade per primo perde! Forza, l'affario! Girati, Dimon! Girati, girati, girati! Girati, Dimon! Dai! Forza, l'affario! Sei molto più forte, Dimon! Forza, Dimon! Spengilo in pescina! Dai, forza! Forza! Oh, amici! Non va bene! Ho perso! Ho vinto! Ho vinto! Sì, Dimon! Sapevo che ce l'avresti fatta! Sono un professionista del sumo, amici! Andrò in Giappone e gareggerò nelle competizioni di sumo! È un bene per me! Oh, ragazzi, guardate! Un serbattolo si sta riempiendo di nuovo d'acqua! È davvero freddo! Nella prossima sfida, Dimon e Raffario avranno delle pistole d'acqua! Devono far cadere i bicchieri dal tavolo! Vinci che va a cadere più bicchieri! Sì, ragazzi! 3, 2, 1! Andiamo, andiamo, andiamo! Forza, Dimon! Dai, dai! Forza, Dimon! Dai! Forza, 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 forza! Forza, Laffario! Andiamo, andiamo! Forza! Forza! Dai, Dimon! Forza! Dai, dai, dai! Non è rimasto morto! Ah! Error! Dai! Sì! Sì, forza, ciao perdente! Manca poco, amici! Ne mancano solo due! Guardate voi! Buono, Laffario, cosa hai fatto? Sto per morire affogato qui dentro! Sì! Sì, dimon, grandissimo! Sto male qui dentro, aiuto! Nella prossima sfida dovranno partecipare ragazze dell'acquario! Sì, ragazzi, finalmente posso partecipare anch'io! Sì, pazzo, come possiamo partecipare dopo aver passato così tante ore qui? Ognuno di voi avrà quattro fraccette e sei palloncini! E chi riuscirà a far scoppiare più palloncini vincerà a questa sfida! Siete pronti? Sì! Allora iniziamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Forza, Stas, vincerai, credo in te! Se vincerai uscire da lì e odisserai un restere addentro! Forza, forza, Odisseo, puoi farcela ragazzo mio! Da, tu sei! Di sei tu per plino! Forza, Odisseo! Forza, guarda, posso farci! Sì, 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 sì! Tocca a me, vero? Sì! Vediamo! Sì, è il tuo turno! No! Sì! Uno, uno, amici! Ma ne andiamo! Sì, sì! Ce la farò sicuramente, guardate! Sì! Due, uno, amici! Stas, sta vincendo per ora! Vediamo! Forza, Odisseo! Ora io! Sì! È incredibile! Amici di me, rimane uno solo! Cercherò di colpire due palloncini con un colpo! Contro con la mente con una sola traccetta! So che è quasi possibile, ma solo di sé dovrei riuscirci! Odisseo, è il tuo turno! Ma hai già perso comunque! E io, amici, credo che quella che diceva se possa cadere! Vediamo! Bene, andiamo! Uno, due, tre! Sì, 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 sì! Forza, forza, forza! Dai, dai! Oh, sì! Sì, amici! Mi ha colpito in quattro, amici! Tiratemi fuori di qui! Forza, tiratemi fuori! No, no, amici! Io resterò qui! Non me lo andrò mai da qui! Ma amici, poiché odisseo ha perso questa sfida! Significa che l'acqua raggiungerà il quarto livello! E lui è a perdente! Stas, sei tu che vinci! Sì, tiratemi fuori! Tiratemi fuori di qui! Odisseo, mi dispiace che tu rimanga lì! Ciao, ciao, loser! Oh, amici, non posso credere che negano qui dentro! Vi voglio molto bene! Il gioco è finito ed ho perso! Non posso uscire da qui! Quindi mettete mi piace, iscrivetevi, premete il campanello e ci vediamo!